Noi come Rifondazione Comunista ribadiamo la nostra posizione. Siamo nettamente contrari all'ipotesi di spostare l'ospedale di Teramo a Pianodaccio, a Fiumicino o altrove. Mentre diciamo che siamo favorevoli alla realizzazione di un nuovo ospedale di secondo livello a Teramo nell'area dove sorge l'attuale ospedale Mazzini nel quartiere di Villa Mosca. E purtroppo dobbiamo criticare l'amministrazione comunale perché se fino ad oggi in tutti questi anni è rimasta silente o ondivaga in merito all'argomento della localizzazione del nuovo ospedale di Teramo abbiamo visto che qualche giorno fa il primo cittadino si è dichiarato favorevole allo spostamento dell'ospedale a Pianodaccio purché ha detto l'ospedale Mazzini non resti vuoto e venga quindi chiuso ma continui ad ospitare uffici e ambulatori dell'AS. In questa città il comitato promotore per il nuovo ospedale del Mazzini ha raccolto più di 10.000 firme. Ci sono anche i cittadini e i sindaci, gli amministratori delle zone interne montane che sono contrari allo spostamento dell'ospedale di Teramo. Ricordiamo anche un particolare, qualche anno fa questa stessa maggioranza era all'opposizione e aveva partecipato alla raccolta firme, ricorderete 5.000 firme contro l'abbattimento del vecchio stadio comunale. I democratici all'epoca erano insorti, chiedevano alla giunta di centrodestra un referendum, la partecipazione, chiedevano che tutti i cittadini potessero dire la loro, ebbene oggi che loro sono al governo in questa città sembra che 10.000 firme non valgano nulla. E quindi diciamo, chi comanda in questa città? Da una parte abbiamo la volontà popolare che è stata manifestata, 10.000 firme non sono poche, tanti cittadini sono contrari a questa ipotesi, dall'altra abbiamo quindi i vertici dell'AS di Teramo, molti amministratori esponenti del centrodestra provinciale e regionale, e adesso registriamo che su questo carrozzone è salita anche l'amministrazione comunale di Teramo.